Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti, settimana decisamente particolare quella che si è appena conclusa, del resto era la settimana del ringraziamento per gli Stati Uniti, quindi giovedì Wall Street è stata chiusa, venerdì è rimasta aperta solo per mezza giornata, venerdì è anche giornata di Black Friday, pertanto sostanzialmente operatori americani distratti a fare compre e non a comprare. È stata una buona settimana anche per Piazza Affari, notate come le giornate siano state man mano in miglioramento, lunedì abbiamo aperto sui 24.05 e poi si è solamente scesi, decisamente meglio la seduta di martedì, mercoledì abbiamo avuto una lunghissima all'overshadow, poi giovedì e venerdì, contrassegnate dalla sostanziale chiusura di Wall Street, le giornate migliori e siamo tornati sui massimi di periodo, stiamo sfiorando i 24.800 punti, ricordate avevamo già segnalato settimana scorsa i 24.800 il primo livello da andare a guardare, ecco questa settimana diciamo che è servita a Milano per scaricare un pochino di eccessi, vedete anche il momentum a ribasso, pertanto ora vedremo se la prossima settimana ci saranno nuove notizie positive e quindi vi sarà la possibilità di nuovo a lungo, allora si passeranno aggiormente i 24.800 punti e si torneranno a testare i 25.000 punti. pertanto con questo è tutto, vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana e ci aggiorniamo alla prossima settimana.